Buonasera a tutti e benvenuti al nostro ospite di Fight the Virus di oggi che è Andrea Dondi. Benvenuto Andrea. Grazie, grazie dell'ospitalità. Allora siamo appunto sul nostro canale Fight the Virus. Quando dico nostro, è il canale che la Fondazione Fight the Stroke ha avviato già da un po' di tempo in epoca Covid, ma che è un canale che abbiamo continuato a tenere aperto perché sentiamo proprio la necessità anche lato famiglia di avere dei momenti di approfondimento con degli esperti. Quindi oggi è la puntata numero 26 di questi colloqui con gli esperti. Abbiamo avuto pochissimi, credo soltanto un altro psicologo. Abbiamo avuto Daniela Lucangeli che è stato uno degli interventi che però ha riscosso tantissimo interesse nella nostra comunità. Però oggi siamo contenti di avere quest'altra testimonianza di Andrea che è appunto uno psicologo, uno psicoterapeuta, un analista transazionale. Poi ci spieghi tu Andrea cosa vuol dire, no? Perché io riporto parole di cui però conosco poco il significato, quindi chiediamo apposta all'esperto. Vi dicevo questa è la puntata numero 26 del 12 dicembre del 2022. Oggi parleremo dei siblings che è un tema che Andrea conosce molto bene, sul quale ha pubblicato anche dei libri, ci racconterà anche di questo. Prima di entrare nel vivere la conversazione una domanda invece più personale. Cos'è che ti ha spinto ad andare su questo tema, approfondire questo tema dei siblings, quindi fratelli e persone con disabilità? Sei tu un genitore o sei un fratello? No, sono un fratello ma mia sorella non ha una disabilità. Tutto è nato diciamo così quando un bel po' di anni fa ho cominciato a lavorare in una fondazione che non era fondazione Paideia, ma un'altra fondazione che si occupa tra l'altro di disabilità neormotori, la fondazione Ariel di Rozzano, che voi immaginate. E lì ho cominciato a fare questa attività di sostegno alle famiglie, ma ai genitori in particolare, è capitato che credo fosse la moglie del presidente della fondazione che un giorno così un po' a Anpassan, butto lì una frase dicendo non dimenticatevi anche dei fratelli, delle sorelle, e mi si è un po' accesa una lampadina a quel punto, ho cominciato a interessarmi, a guardare un po' in giro, ho trovato pochissimo qua in Italia, anzi quasi nulla, allora ho cominciato a cercare anche all'estero e ho scoperto un mondo, insomma. Che poi è diventata la tua area di specializzazione? Diciamo che da lì mi sono interessato, ho cominciato a organizzare eventi, convegni, invitando persone appunto da lontano che ci spiegassero un po' quali erano sia la filosofia che le modalità di intervento, di supporto ai fratelli, e da lì parlo ormai appunto del 2005, è iniziata questa avventura. Ecco, sappi che sei un leader riconosciuto all'interno della nostra comunità perché tanti dei nostri genitori avevano appunto letto i tuoi libri, per cui questo che era un interesse iniziale davvero è sfociato in un'area di profondo valore per tutte le famiglie che appunto si interessano o toccano questo tema della disabilità. L'hai introdotto anche tu, ma mi piace ricordarlo, hai detto che appunto adesso lavori presso la Fondazione Paideia, sei il coordinatore della sede milanese che non esiste da tanto, vero? No, da pochissimo, quindi abbiamo aperto appena prima dell'estate la sede qua a Milano che è in centro, tra l'altro abbastanza accessibile perché siamo vicini alla stazione metro di Cadorna e quindi abbiamo avviato qui le attività di Paideia che adesso Paideia Torino si è molto ingrandita e fa anche tutta una parte legata alla riabilitazione, mentre qua a Milano nella sede che è più piccola abbiamo però, possiamo garantire i servizi quelli più dedicati alla famiglia, quindi il supporto ai fratelli, ai genitori, l'orientamento sul territorio per i servizi e tutte queste attività proprio più dedicate alla famiglia in generale. Per cui può essere anche un punto di riferimento per chi ci ascolta e vive su Milano proprio interessato a questi temi, quindi ci fa piacere ricordare una fondazione che stimiamo e che ha fatto tanti progetti rilevanti in questo settore. Senti, io andrei verso quello che noi chiamiamo il patto d'aula, quindi due regole semplici semplici, una sono già andata spedita, ci diamo del tu in questa conversazione, quindi ristabiliamo anche le asimmetrie, però ognuno di noi è consapevole poi del proprio bagaglio di competenze, quindi io porto soltanto l'expertise della conoscenza dei bisogni delle famiglie. Faccio subito disclosure invece di un fatto, nel senso che rispetto ad altri incontri, chiacchierate nei quali mi sentivo un po' più sul pezzo, qua devo dire che uno non ho l'esperienza tipica del genitore, perché ho un figlio unico con disabilità e dall'altra parte ho pochissima conoscenza e competenze anche acquisite nel mondo della psicologia, quindi su questo torno sulla tua domanda iniziale rispetto al tuo profilo, che cos'è l'analisi, cosa vuol dire essere un'analista transazionale? Allora, l'analisi transazionale è una teoria psicologica che nasce negli Stati Uniti negli anni 60 ed fa parte di quel filone che viene chiamato filone umanistico delle psicologie insieme ad altre tipologie di approcci e diciamo che ha come caratteristica il fatto di essere molto incentrata sulla valorizzazione delle risorse delle persone, quindi è molto focalizzata sull'individuazione delle competenze, sulla sottolineatura delle capacità, quindi diciamo che è un approccio che tende a vedere l'umano che c'è in noi e soprattutto… E' meno a puntare il dito, no? Sì, sì, da quel punto di vista sì, sì. Infatti, diciamo così, lo slogan con cui potrei riassumere il concetto è che nasciamo tutti principi e principesse e poi diventiamo dei ranocchi, insomma, no? Quindi l'idea è quella di recuperare il nostro essere principi e principesse. Bello, mi piace come definizione, ci dà appunto l'avvio a questa conversazione in cui vorremmo parlare anche di spiegazioni, definizioni, dare significati ma anche dare strategie concrete. Io inizio subito dicendo che per introdurre appunto questo tema abbiamo fatto un sondaggio all'interno del nostro gruppo, noi abbiamo una comunità di famiglie Fed Stroke che si riunisce in un gruppo virtuale, quindi come se fosse un focus group continuo, sono circa un migliaio di persone e quello che abbiamo scoperto, al di là del tasso di risposta, hanno risposto un 20% dei partecipanti al gruppo che per queste comunità online è un tasso molto alto, quindi c'è molto interesse su questo tema dei siblings, dei fratelli e delle sorelle delle persone con disabilità, però ci interessava capire anche quali erano le caratteristiche di questa popolazione, quindi abbiamo scoperto che il 40% ha un solo figlio, quindi un figlio unico, non so se queste sono statistiche anche un po' in linea con la popolazione italiana o comunque con i trend che vediamo delle famiglie, mentre un 25-24% ha altri figli che siano arrivati prima o dopo l'esperienza della persona con disabilità. Abbiamo anche una comunità di gemelli, quindi famiglie in cui ci sono i gemelli, parleremo anche di questo perché sono magari delle casistiche particolari che hanno altre sfaccettature, abbiamo dei figli mediani, quindi non esistono solo i figli maggiori e minori, ma ci sono quelli che finiscono in mezzo e poi abbiamo figli unici, l'abbiamo detto, anche loro magari possiamo dire qualcosa sul loro vivere questo mondo della disabilità senza avere elementi di confronto e uno spaccato anche sui figli adottati, quindi ci interessava un po' toccare tutti questi temi. Allora la prima domanda in assoluto è come mai questa definizione di parola siblings, quindi come mai questo termine d'inglese che poi è stato adottato universalmente per indicare questa condizione. Sì, allora non è chiaro quale sia il motivo, diciamo, è diventato un po' nella consuetudine, è entrato nella consuetudine del mondo così scientifico quello di associare il termine sibling che significa fratello sorella in generale, però forse… Per cui non ha una connotazione specifica rispetto alle persone con disabilità. No, è particolare, forse è una questione da un certo punto di vista economica piuttosto che dire brothers and sisters, che diventa forse un pochino più complicato, sibling è un termine che racchiude entrambe le… È vero, gli americani ci fregano sempre con la lingua che trovano queste parole di sintesi, hanno grande sintesi. Esatto, sì, quindi poi nella consuetudine è diventata… è stata utilizzata proprio per identificare i fratelli e le sorelle di persone con disabilità, anche se appunto nella lingua inglese a volte viene utilizzata in maniera così comune, insomma. Quindi senza accensioni particolari. Sì. Bene, io volevo sfatare con te quelli che sono i luoghi comuni per una persona come me che appunto non vive questa condizione di fratellanza all'interno della famiglia, sento sempre risuonare un paio di frasi che volevo condividere con te. Beh, la prima è gli faccio un fratello così poi nel dopo di noi siamo sicuri, quindi già questa articolazione della frase, quindi gli faccio un fratello perché sono io artefice genitore e penso che una famiglia numerosa possa essere poi una rete di supporto per la persona con disabilità. e l'altra è che i fratelli delle persone con disabilità sono sempre più tutto, sono più performanti, sono più intelligenti, sono più empatici, quindi volevo cominciare con te mettendo appunto qua a fuoco queste due frasi. Sì, allora, per quanto riguarda la prima, quella di dotare il figlio con disabilità di un fratello o una sorella che possa essere, di avere un ruolo, diciamo così, di accudimento, di caregiving, diciamo, nel suo futuro è un elemento che ricorre anche a volte nel vissuto dei genitori, che da un lato è anche abbastanza comprensibile per certi versi, credo che quindi il fatto di poter dare una continuità al proprio esserci e al proprio sostegno è un fattore comprensibile e fisiologico da parte di un genitore che è preoccupato di quello che è tutto il tema del futuro, insomma, e quindi un pensiero ricorrente è come poter garantire un supporto, un sostegno nel futuro. Il fatto di farlo attraverso la presenza di un familiare, quindi qualcuno con un legame anche affettivo, diventa una tentazione forte, perché ovviamente è un modo non soltanto di garantire un'assistenza, ma anche un'assistenza appunto che è connotata di fiducia e anche di un legame che va al di là di quello che può essere il sostegno concreto. Quindi questo io lo comprendo. Dall'altra parte, se dovessi vedere la criticità di questo aspetto, è il fatto che spesso e volentieri quello che succede è che i genitori abbiano una visione dei fratelli e delle sorelle che è un po' troppo simile alla propria visione di che cosa significa gestire il mondo della disabilità. E che forse toglie anche un po' di autodeterminazione alla persona stessa con disabilità, no? Sì, tra l'altro, tra l'altro, perché poi una cosa per esempio su questo filone interessante è che anche nel momento in cui si verifica concretamente la possibilità che il fratello o la sorella si occupi della persona con disabilità, raramente si chiede alla persona con disabilità se è d'accordo, no? Se è quello che vuoi, quello che ti aspetti Si dà per scontato, no? Si dà per scontato che questa continuità sia qualcosa di accettato, no? Che vada bene, che sia qualcosa che fa felici tutti quanti. In realtà non è sempre così e diciamo che se dovessi dire la regola aurea in questo caso è non dare nulla per scontato. Ecco, quindi questo potrebbe essere la riflessione, no? Da un lato anche esplicitare, no? Forse tirar fuori anche queste conversazioni e non lasciarle sopite come sottintesi, come... Esatto, ma anche questo soprattutto da un punto di vista proprio concreto nel momento in cui i fratelli e le sorelle cominciano ad affacciarsi alla vita adulta cioè quindi cominciano ad essere a un'età in cui cominciano a dover fare anche delle loro scelte personali l'idea di intavolare questo discorso, cioè di capire quali sono le loro intenzioni, no? In termini di un futuro ruolo nella vita del proprio fratello con disabilità è sicuramente consigliabile cioè quello di parlarne. Poi è vero che poi le cose possono cambiare, no? Eccetera, eccetera. Però non dare per scontato è secondo me veramente molto importante perché sappiamo che poi in questa dimensione di implicito, di non chiaro, spesso capita che i fratelli e le sorelle possano prendere delle decisioni che in qualche modo vanno in una direzione che non è desiderata o che magari risulta, come dire, una sorta di intuizione, no? Di un qualche indicazione genitoriale che magari invece non era così pensata, no? Così chiarita. Quindi questo sicuramente è un aspetto importante. E l'altro è appunto non dare per scontato che un fratello abbia, come dire, la possibilità di subentrare in un ruolo che è tipicamente genitoriale. Quindi questo significa non avere proprio chiaro qual è la distinzione tra il rapporto tra due fratelli e un rapporto genitore-figlio, no? Quindi come se questa sostituzione potesse avvenire a prescindere dalla diversità di questi ruoli. Quindi ci riferiamo in particolare al lavoro di cura, no? Al lavoro... Alla presenza, sì, in termini di cura a diversi livelli, no? Che può essere, in modo anche, dire, anche formale, no? Essere l'amministratore di sostegno per arrivare ad avere... Dal punto di vista giuridico è qualcosa di normato? Cioè la figura del genitore ha un ruolo appunto sulla persona con disabilità, in presenza di alcune condizioni, ma la figura del fratello ha degli obblighi anche di cura? Nel momento in cui vengono a mancare i genitori subentrano i fratelli e le sorelle da questo punto di vista, però appunto anche qua il fatto di subentrare è qualche cosa che dipende da come avviene, no? Appunto questa cosa e magari possono essere fatte anche delle scelte prima, no? Per esempio appunto può essere nominato amministratore di sostegno un fratello e una sorella anche con largo anticipo rispetto al venir meno, no? Della presenza dei genitori, oppure possono essere fatte delle scelte anche di coinvolgimento, no? Nel percorso da adulto del fratello con disabilità, in modo tale che anche i servizi conoscano i fratelli e le sorelle e viceversa. E quindi quello che io dico sempre è che è più difficile giocare una partita nel momento in cui si è stato troppo tempo in panchina, no? Quindi a volte per i fratelli un po' questa è la criticità. Si sta tanto tempo in panchina, non si gioca mai, poi viene il momento di giocare e l'allenamento non è esattamente quello richiesto, no? Dalla partita in gioco. Quindi il fatto di farli partecipare, di tenerli dentro, anche processi decisionali o comunque all'interno di una circolazione delle informazioni è molto molto importante proprio per evitare che questo passaggio poi diventi eccessivamente brusco, no? E vada a intaccare il funzionamento, la vita di questi fratelli e sorelle che ovviamente diventati adulti avranno, come dire, preso anche delle strade, no? Si auspica, no? Mi sembra che però il modello educativo un po' più moderno vada verso questa condivisione, no? Anche delle decisioni in ambito familiare. Se penso a qualche anno fa, ma anche solo dieci, vienti anni fa, il tema della disabilità in famiglia era vissuto davvero come una vergogna, come qualcosa di cui non parlare, anche con i parenti più stretti. Invece mi sembra che adesso anche con questa condivisione più allargata faccia un po' più parte della nostra cultura. E poi dimmi tu anche se la realtà dei fatti è così. In parte. Io avendo a che fare anche molto spesso negli ultimi anni con i servizi per la disabilità adulta, mi sono reso conto che c'è molto da fare, non da questo punto di vista. Per esempio molti servizi, centri di urni, eccetera, non avevano contatti con i fratelli e le sorelle, cioè non erano presi in considerazione come interlocutori attivi. Un po' perché i genitori a volte fanno un po' da schermo, no? Cioè quindi il messaggio è finché ci sono io, tu non ti devi preoccupare. Poi c'è anche questa necessità di accentrare all'interno di questa figura del caregiver un po' tanti ruoli, perché gliene vengono tolti tanti a questo caregiver, allora c'è un po' la necessità di essere quello che organizza, gestisce tutto, anche senza delega, anche senza condivisione. Assolutamente. Sì, e soprattutto è anche frutto, probabilmente anche in termini, penso positivi, di un atteggiamento protettivo nei confronti dei sibling. Però ecco, sul lungo periodo questo in realtà poi è un po' controproducente, perché appunto nel momento in cui si lascia un po' troppo in panchina, poi non li si aiuta ad essere poi degli attori. Allenati. Eh sì, sì, questo può dire un po' il tema. Senti, tocchiamo subito la seconda frase, questa cosa qui che esiste qualche studio scientifico, qualcosa che mi dice che c'è una compensazione di questa società, per cui un figlio con disabilità vuol dire un fratello che invece è più performante, più intelligente, più empatico. C'è qualche studio o qualcosa che... No, allora, ci sono diversi studi che, tra l'altro ecco, diciamo così, che sgombriamo il campo da questi possibili fraintendimenti. Avere un fratello con una disabilità non è un problema di per sé. E non è un deficit, no? Non è. Non dobbiamo compensare qualcosa che manca. No, no, assolutamente no. Addirittura gli studi dicono che il fatto in sé di avere un fratello e una sorella con disabilità non è un indice sfavorevole, ma è interessante questa cosa, perché gli studi ci dicono che è la complessità che sta intorno a questa relazione che può generare delle difficoltà a questi fratelli e sorelle, quindi... O che sviluppa magari anche delle capacità. O sviluppa delle capacità. Allora, io quello che fa parte della mia esperienza è che esiste un continuum molto ampio, uno spettro molto ampio di esperienze e di possibilità. Quindi ho conosciuto fratelli e sorelle che sono delle persone molto particolari, eccezionali sotto certi versi, e alcune altre molto sofferenti. In mezzo c'è un mondo di possibilità. La varietà umana. Assolutamente. Quindi è possibile tutto ed è possibile in funzione di tante variabili diverse, per cui quando ci avviciniamo ai sibling, più delle volte al di là della questione relazione fraterna in sé, le domande che dobbiamo farci hanno a che fare con altre variabili, che sono il contesto familiare, il contesto sociale e tutta la cultura di riferimento anche che ha a che fare con la disabilità. Cioè sono tante questioni che influenzano poi il benessere di questi fratelli e sorelle. Quindi in realtà la situazione è molto più complessa. Però anche qui l'esperienza insegna che, sebbene non sia essere sibling un problema, comporta delle sfide, delle sfide aggiuntive rispetto agli altri, e anche qui se in queste sfide i sibling vengono adeguatamente accompagnati e supportati, i risultati che noi abbiamo è di trovarci di fronte a persone decisamente con una marcia in più. Quindi è un, io lo chiamo sempre una sorta di investimento sociale occuparsi dei sigli, perché veramente aiutiamo queste persone a tirare fuori il meglio da questa esperienza e a farli diventare molto molto competenti, capaci. Tant'è vero che statisticamente molti di questi fratelli e sorelle poi lavorano nelle professioni d'aiuto, piuttosto che noi, io ho conosciuto persone che sono finite nel Parlamento, che sfanno il sindaco, cioè veramente persone che sono riuscite. Forse è anche la possibilità di essere esposti a una varietà di eventi, di problemi, di gioie, di comunque eventi in generale più sfaccettati rispetto magari a una realtà più comune. Anche la capacità, poi adesso questa parola so che non è più tanto di moda, la resilienza, che ormai non se ne può più di questa resilienza, però è un concetto che rende bene l'idea della capacità di recuperare di fronte a una serie di situazioni anche non facili da affrontare. In questo senso questi fratelli e sorelle hanno sicuramente delle capacità, sviluppano delle capacità notevoli, quindi di maggiore maturità in alcuni casi, maggiore sensibilità, tu hai nominato l'empatia sicuramente, quindi da un punto di vista di quelle che tecnicamente chiameremo le soft skills, cioè che poi tornano utili trasversalmente anche in… più che mai in queste fasi fluide. Esatto, quindi anche nell'ambito lavorativo piuttosto che sono persone che di solito appunto, se aiutate, supportate, accompagnate, sicuramente hanno queste capacità molto evidenti. Bene, intanto già abbiamo fatto un po' di pulizia anche da luoghi comuni, perché il nostro obiettivo è anche questo, fare un po' di educazione rispetto a un livello di comunicazione che può essere un livello di comunicazione che avviene su nuovi media, che magari è molto semplicistico, diciamo, non ci permette poi di scendere a fondo come invece stiamo facendo con te oggi. Senti, un elemento che ci interessava mettere più a fuoco è quello delle diverse fasi di vita, no? Perché anche nell'essere sibling, nell'essere fratello, cambia questa condizione quando si hanno tre anni, quando se ne hanno dieci, quando se ne hanno venti. Quindi ci sono degli aspetti, delle caratteristiche che ti senti di evidenziare e che vale la pena magari ricordare anche agli stessi genitori, perché tu parlavi prima di condivisione, no? Magari si può condividere la storia, il percorso anche di un fratello con disabilità quando si hanno gli elementi giusti anche per capire questo percorso. Quindi magari il linguaggio che si usa con un bambino di tre anni sarà diverso rispetto a quello che si usa un ragazzo di 13 anni. Quindi ci piaceva ripercorrere un po' queste diverse fasi. Sì, allora, è interessante notare che innanzitutto che il legame fraterno tendenzialmente è il legame più lungo di tutta la nostra vita, no? Cioè questo è un elemento in cui non prestiamo attenzione. Quindi essere sibling è qualcosa che accompagna le persone per tutta la vita. Questo lo dico anche per un motivo importante, credo che questo sia un messaggio determinante per i genitori, e cioè fare una distinzione molto chiara rispetto ai vissuti del genitore e rispetto a quello dei sibling. Perché? Perché quando un genitore incontra la disabilità nella situazione del proprio figlio, di solito questo avviene ovviamente in una fase adulta della vita e quindi c'è un prima e un dopo molto chiaro, no? Molto preciso. E tendenzialmente il prima aveva spesso e volentieri poco a che fare con la disabilità o quasi nulla, no? Nell'esperienza di molti genitori la disabilità diventa un mondo da conoscere da quel momento in poi. Per quanto riguarda i fratelli e le sorelle non è sempre così e per i siblings minori non lo è affatto. Cioè loro nascono in un ambiente che è connotato e influenzato dalla disabilità da subito e questo fa un mondo di differenza. Perché? Perché per quanto riguarda i sibling loro crescono e quindi si costruiscono come persone, costruiscono la loro identità, la loro personalità, confrontandosi continuamente con il tema della disabilità, no? Quindi è un crescere in un mondo dove la disabilità ha un ruolo molto preciso. È un dato di fatto. È un dato di fatto, no? Con tutti i pro e contro di questa cosa, no? Quindi tener conto di questo significa pensare che il loro modo di vivere la disabilità è un modo di viverla diverso da quello dei genitori, molto diverso. Quindi anche lo sguardo che hanno verso la disabilità è diverso. Tant'è vero che parlando con i sibling mi accorgo spesso che per loro la disabilità è qualcosa che conoscono da qualcun altro, nel senso che vedere i propri fratelli e sorelle all'inizio è semplicemente vederli in quanto fratelli e sorelle. E quindi quello che non cammina o non parla è uguale a quello che è gli occhi azzurri e i capelli rossi, insomma, no? Quindi è una caratteristica. Poi invece qualcuno gli dice che quella roba lì è una disabilità. Allora questa conoscenza diventa un elemento con cui fare i conti, no? Che è molto diverso dall'attribuzione di significato da parte di un genitore a quella condizione del proprio figlio. Quindi entrare in questa logica significa fare un po' uno sforzo di mettersi nei panni di questi sibling e di guardare il mondo con questa prospettiva, no? Che è una prospettiva veramente diversa, no? Quindi di questo ce ne accorgiamo anche magari quando sono adulti, no? Per cui sono anche un po' meno protettivi, no? Nei confronti dei loro fratelli rispetto a quanto non lo sono i genitori ma perché li vedono in una condizione, come dire, di normalità. Cioè ne vedono gli aspetti anche molto di normalità, non accentuano l'elemento di deficit come primo dato, no? Di cui andiamo a osservare. E quindi sono una grandissima risorsa nel valutare quelle che sono le potenzialità anche dei fratelli perché hanno uno sguardo paritario e uno sguardo molto così, molto più... Meno filtrato, meno filtrato, sì. Questo ti riferivi in particolar modo alla condizione dei figli minori che vivono la condizione di disabilità dalla nascita, quindi per loro quella è, la società è fatta così, quindi... C'è qualche differenza invece se il figlio è maggiore, se... È maggiore ma non di tanto, cioè quindi non c'è uno scarto molto grande, in realtà non c'è una grande differenza, non c'è una grande differenza e il fatto è che comunque le tappe evolutive che ovviamente in modo fisiologico ripercorrono i sibling sono comunque tappe che vengono influenzate dalla condizione che vivono, anche in termini... e la disabilità in questo ha un ruolo, no? Adesso faccio un esempio molto concreto. Se penso per esempio a tutto il tema delle emozioni, no? Cioè quindi il fatto che sia normale per un bambino piccolo poter provare delle emozioni anche negative o conflittuali, no? nei confronti del proprio fratello, sorella, no? Perché si ama, ci si odia, eh? Più che normale, direi, nella quotidianità famigliata. Nel momento in cui c'è un fratello con una disabilità magari questo è più o meno consentito, no? Perché c'è una sorta di maggiore protezione o di giustificazione magari di alcuni atteggiamenti, no? Allora questo che dai genitori è visto come un normale atteggiamento legato alla comprensione, no? Di quello che avviene e della condizione della famiglia può essere però interpretato dal sibling come qualcosa o di ingiusto o del fatto che ci siano delle emozioni che siano più permesse di altre, no? Cosa che appunto... Come se la persona con disabilità fosse un po' privilegiata anche nel rapporto con i genitori, no? Lui si può permettere di sclerare, di fare cose che io invece fratello non... Magari me le suona e io devo stare zitto perché lui non lo fa apposta, no? Però per un bambino di 5 anni che lo faccia apposta o meno non fa molta differenza, no? Cioè il vissuto... E allora bisogna tener conto che queste cose che succedono tendono ad incidere fisiologicamente in alcune percezioni, no? Di se stessi, degli altri, del mondo che i sibling stanno costruendo, no? In quel momento della loro vita. E quindi avere questo livello di attenzione da parte degli adulti è molto importante proprio per cercare poi di fare in modo che alcune cose risultino più armoniche, no? O più chiare, no? Oppure di alcune cose se ne possa comunque parlare, no? Quindi per esempio nei gruppi che facciamo per i fratellini a partire dagli 8 anni in poi questo tema delle emozioni... Quindi l'età per verbalizzare per fare anche delle comunità di fratelli è questa dagli 8 in poi? Dagli 8 in poi per i gruppi sì perché ci sono dei motivi tecnici che hanno a che fare col fatto che stare in un gruppo richiede un minimo di dimestichezza e quindi... Regole sociali... Esatto, quindi devono essere scolarizzati poi devono avere la possibilità di saper scrivere, leggere per comprendere magari alcune attività, consegne eccetera e quindi questo... Ma diciamo che a prescindere da questo il fatto di poter parlare con i fratelli e le sorelle di questioni legate alla disabilità in realtà non ha un limite o un limite di tempo e anche qua se devo dare un'indicazione le possibilità sono secondo me due una, quando cominciano a fare delle domande e a volte lo fanno in maniera anche molto precoce quindi 4-5 anni cominciano a fare domande se fanno domande vuol dire che meritano una risposta quindi che non vanno lasciati nel dubbio o nel... Sì, credo che su questo i genitori siano un po' tutti concordi nel dovergli dare una risposta e non avere poi quelle leve per comunicare con un linguaggio comprensibile magari a un bambino di 4-5 anni quindi su questo se c'è anche qualche consiglio qualche strategia Ma in questo si possono trovare dei modi molto semplici e creativi di spiegare la disabilità tendenzialmente se possibile anche poco scientifici ma che abbiano che siano aderenti a quella che è la comprensione del bambino di quell'età e in questo veramente i genitori possono trovare un loro modo che diventa anche un linguaggio come dire familiare per trattare alcune questioni per cui magari mi viene in mente una volta uno che aveva pensato al ritardo mentale come a questa lampadina che si accendeva più lentamente degli altri quindi questo pensiero che arrivava in maniera un pochino più lenta piuttosto che altre questioni legate ad altre tipologie di disabilità ma veramente ci si può sbizzarrire da questo punto di vista perché anzi quello a cui noi assistiamo ogni tanto sono bambini che arrivano magari a 8, 9, 10 anni con una competenza tecnico-scientifica che non è appropriata alla loro età cioè sembrano veramente parlare a volte con degli piccoli ingegneri o medici o fisioterapici o ne sanno di PEG o di nutrizioni interali sì, è una cosa normale in certi casi però c'è una sorta il rischio che può esserci in questa situazione è quello di una sorta di adultizzazione o di medicalizzazione anche di questa condizione che diventa solo quello diventa solo assistenza esatto quindi questa è la prima idea di dare queste risposte quando arrivano le domande e l'altra è quella di dare delle informazioni precise per quanto possibile appunto in questo modo ma comunque di dare delle informazioni ai sibling all'ingresso della scuola primaria cioè quando si vanno alla scuola elementare l'ingresso in società esatto perché lì sono esposti a una serie di sollecitazioni o comunque di richieste di domande anche a volte non così lineari non così insomma semplici da gestire e loro è fondamentale metterli nelle condizioni di poter dire qualcosa la qualsiasi cosa ma è meglio dargli la cassetta degli attrezzi per dire quindi è giusto in questo caso che il genitore intervenga nel dare questo tipo di informazioni se il bambino magari fosse sprovvisto oppure non lasciare alla casualità non lasciare la casualità perché il fatto di trovarsi in una condizione in cui non avere nulla da dire non avere risposte da dare è una fonte di ansia di angoscia per alcuni superiore al fatto di avere delle informazioni che magari sono un po' non precisissime da un punto di vista scientifico però che comunque danno l'idea è una questione di padronanza come dire l'idea di sapere come affrontare quella situazione magari anche in modo molto semplice però avere la risposta pronta che è pronta a volte anche a zittire alcuni interventi poco simpatici è vero che poi non ci pensiamo mai ma il bullismo di cui parliamo tanto rivolto spesso alle persone con disabilità o anche altre condizioni di discriminazione penso all'abilismo magari non si riflettono solo sulla persona stessa ma si riflettono su tutto il nucleo familiare quindi tanto più magari ha una una persona giovane che è esposta a contatti in società come un fratello assolutamente in questo senso per esempio a proposito di anche di una condizione evolutiva e di emozioni anche che riguardano queste situazioni tipicamente il senso di vergogna o di imbarazzo che a volte provano questi fratelli anche questo va un po' compreso dai genitori che ovviamente da adulti gestiscono questa cosa in maniera molto più competente non sempre devo dire che infatti infatti non è sempre così anche io ricordo una prima fase nostra del confronto con la disabilità in cui c'era proprio questo senso di chiusura di dire ma se me la gestisco in casa forse proteggo di più lui proteggo di più noi e quindi questo senso di vergogna mascherata un po' da protezione quindi dico anche il genitore forse anche i genitori però a volte si attrezzano quindi a volte li vedi che partono fanno delle paternali tremende a quelli che guardano come fissano mentre i fratelli e le sorelle le chat di classe le giite mentre i fratelli e le sorelle sono più sguarniti da questo punto di vista quindi l'idea per esempio a volte di costruire anche un po' delle strategie familiari di supporto è vero che poi i fratelli e le sorelle assistono a queste paternali quindi assorbono un po' anche sì assorbono ma poi non sono in grado di replicare gli stessi interventi quindi a volte mettersi nei loro panni di come loro vivono questa situazione in maniera molto delicata molto faticosa a volte è molto è utile e anche non proporsi a volte come dei modelli troppo difficili da imitare quindi essere dei genitori normali che a volte possono dire mamma mia che brutta quella situazione sono stato malissimo oppure io chissà tu come sei stata al ristorante tutti ci guardavano è stato pesante piuttosto che mostrarsi tutto d'un pezzo con questi fratelli che ti guardano come per dire ammazza mi piacerebbe ma non ce la faccio quindi questa è una cosa utile e a volte si consiglia addirittura di fare qualche qualche strategia familiare tipo girarsi tutti fare linguacce tutti insieme che è una cosa molto divertente che potrebbe aiutare vero sdrammatizzare senti ma ci sono delle fasi della vita in cui si è ancora di più vulnerabili in cui bisogna attrezzarsi di più e il genitore deve stare più attento penso alla famigerata adolescenza quindi questi ragazzi in queste adolescenze sempre più anticipate questi due 11 13 15 anni in quella fase lì è più una fase in cui magari cambia anche la percezione cambia il vissuto o le emozioni che si erano provate prima c'è più il senso di vergogna di inadeguatezza sì diciamo che allora in quella fase che è una fase molto delicata e non è un caso che il supporto dei gruppi sia proprio nella fase 8-12 l'iniziale supporto in prevenzione sì l'ottica della prevenzione è assolutamente di prevenzione i gruppi non sono terapeutici ma sono di prevenzione se vogliamo chiamarla prevenzione secondaria non è una prevenzione primaria ovviamente però è un'ottica è proprio preventiva quindi di accompagnamento di aiutarli ad affrontare queste sfide diciamo che nella preadolescenza adolescenza ovvio che il tema grosso è quello della socializzazione quindi del del confronto col mondo fuori dalla famiglia che da un lato è un'esigenza fisiologica quindi cominciare a staccarsi dal contesto familiare e guardare oltre ovvio che per questi fratelli e sorelle questo oltre non è sempre così un mondo così accogliente diciamo un po' perché si rendono conto cominciano a fare i conti con la cultura della disabilità che c'è o che non c'è insomma e quindi questa frustrazione comincia a farsi sentire e mi dire questo tema dell'ingiustizia si presenta anche in maniera forte e dall'altra sul tema di a volte di una selezione di quelle che sono le compagnie o le amicizie in funzione di questa di questa cultura o di questa capacità degli altri di comprendere o di di accettare il mondo della disabilità ed è un bivio a volte delicato perché da un lato c'è questa spinta ad appartenere al mondo esterno alla famiglia giustamente dall'altra a volte questo mondo è un mondo appunto un po' stile e quindi loro si trovano un po' in una sorta di bivio e il fatto di o scegliere il mondo ostile che magari va contro i principi di quello che hanno imparato in famiglia oppure adeguarsi un po' a questa norma esatto l'esempio molto concreto è appunto magari il sibling di 13-14 anni dopo scuola sta al parchetto con gli amici a fare niente quello che fanno stella e chiacchierano e magari passa qualcuno in carrozzina e gli altri che non sanno spesso volentieri non sanno che lui è un fratello cominciano a fare commenti poco adeguati e lì è proprio un bivio cosa faccio se mi espongo rischio di perdere l'appartenenza al gruppo se non dico niente tradisco il mio mondo familiare in qualche modo non dico nulla è come se io avvallassi quello stile quel modo di vedere discriminatorio come se fossi parte e quindi la ricetta la ricetta è incontrare altri fratelli incontrare altri fratelli e quindi sapere che non sono soli a vivere queste situazioni che esistono altre persone che vivono condizioni simili che alcuni pensieri sono comunicabili che a volte perché a volte alcuni fratelli in alcuni momenti vorrebbero dire caspita se non avessi un fratello con disabilità come sarebbe tutto più facile però si sentono in colpa per questo motivo perché in realtà gli vogliono un gran bene e quindi sono proprio dentro un'ambivalenza anche fisiologica che però è faticosa da gestire da solo e anche vedere il peso dei genitori che dicono che appunto vogliono bene a questo figlio e quindi sapere di non pensarla come loro esatto sembra quasi di tradire questo sentimento familiare in realtà stanno facendo qualcosa di estremamente normale quindi di abbracciare anche un po' il mondo che poi sarà il loro mondo quello fuori dalla famiglia in teoria quindi sapere di qualcun altro per poter condividere questi pensieri anche quelli più più inconfessabili che sono solo pensieri poi in realtà non sono veramente poi qualcosa che loro farebbero quindi disinteressarsi piuttosto che rifiutare il proprio mondo familiare però è proprio come bisogno di sapere che lo possono portare quindi che non sono solo in questa esperienza diciamo che per loro è sicuramente molto e anche qui però può valere la prevenzione può essere necessario come alcuni fanno nel caso dell'ingresso appunto nella scuola nella società dei bambini con disabilità condividere all'inizio a priori in maniera palese a tutta la comunità il fatto che questo bambino sia in condizioni di disabilità e quindi abbia il sostegno abbia una serie di uscite per fare terapie quindi dirlo già in prima battuta anche quando non è così evidente o così palese può valer la pena fare la stessa cosa nel caso del fratello con disabilità cioè vale questo livello di disclosure mi viene a disclosure che questa parola che però vale anche per il fratello ha senso dirlo lo deve fare il fratello lo deve fare la famiglia il genitore non ha senso dirlo perché magari è un'informazione ridondante no più che ridondante appunto è importante che che se dipende un po' dall'età diciamo se parliamo di un ragazzino di adolescente è giusto che sia lui a modulare questo tipo di comunicazione in realtà se penso a prima penso che sicuramente la comunicazione è utile che sia data quantomeno a chi gestisce insieme alla famiglia la vita dei bambini che sono gli insegnanti della scuola perché spesso e volentieri non lo sanno non lo sanno e soprattutto non sanno che cosa vuol dire essere un sibling quindi allora cosa succede che a volte trovi questi poveri sibling a scuola che vengono messi di fianco a quello più irrequieto della classe perché sono così bravi a tenere buono in questo qua ma perché sono abituati magari col fratello autistico a casa e allora gli si replica un mondo anche a scuola che magari loro si risparmierebbero quindi il fatto di sapere questa cosa di differenziare i contesti di dialogare tra adulti competenti che si occupano di bambini è veramente importante e sui compagni invece sui compagni sui genitori dei compagni quindi non chi è predisposto a saperlo avere un ruolo va un po' di conseguenza nel momento in cui si parla della disabilità si può dire che appunto il fratellino o si può dire che ha un fratellino con una disabilità si si può però ecco lo lascerei molto all'iniziativa la libertà dei genitori perché so che è un tema delicato questo per cui ognuno ha le sue preferenze da questo punto di vista non darei un'indicazione poi ci sono c'è tutto uno spettro c'è da chi fa grandi crociate magari ci tiene anche a portare avanti questo tema su chi invece preferisce viverlo più esatto nell'intimità esatto o che le cose succedano in maniera più più naturale in una maniera meno meno così quasi non dico forzata però sicuramente un pochino più indotta ecco da manuale senti io mi sono segnata un po' di comportamenti rispetto alle tipizzazioni di questi siblings e aggettivi o situazioni che riportano un po' i genitori no alcuni riportano fasi di indifferenza di silenzio di esclusione somatizzano alcune di questi di questi eventi poi nella loro vita quotidiana fasi di silenzio di vergogna di essere arrabbiati di rifiuto di fastidio di protezione quindi dall'altra parte invece magari c'è il senso di accudimento di cura del fratello e quindi di protezione oppure dall'altra parte questa necessità di over performare quindi di dire ma allora io devo essere più bravo perché da me si aspettano che invece io vada bene a scuola che vada bene nello sport che abbia successo che sia sano in salute quindi ti ritrovi anche tu immagino in tutte queste sfaccettature e fanno parte di qualche epoca della vita in particolare sono casuali o ricorrenti secondo un pattern una sequenza definita dipende diciamo così che sono delle modalità di adattamento diciamo così diverse che i sibling adottano a seconda di diverse variabili una sicuramente è il contesto familiare quindi alcuni messaggi o il clima che respirano può anche indurre implicitamente perché i genitori dicono ma io non gli ho mai chiesto nulla poi è vero però magari vengono coinvolti in alcune situazioni per cui passa un messaggio di un certo tipo implicito e poi c'è da dire quindi anche per tranquillizzare diciamo così i genitori che i sibling hanno come dire anche delle antenne molto lunghe sono molto intuitivi è come se cogliessero indipendentemente da tutto quello che sono a volte le necessità della famiglia e si adattassero in maniera anche molto funzionale a questo quindi ci sono appunto come dicevo prima dei sibling molto genitorizzati che sono sempre disponibili a fare delle cose in casa dare una mano essere di supporto sono degli ottimi compagni per i propri fratelli in termini proprio di non solo per giocare insieme ma anche in termini proprio di sorveglianza a volte di accudimento altre che invece sviluppano delle capacità di realizzazione di se stessi più all'esterno della famiglia vengono chiamati i sibling super performanti quelli che vanno benissimo a scuola sono bravissimi negli sport anche qui in un'ottica quasi un po' compensatoria cioè quindi quello che non riesce a fare mio fratello in qualche modo anche in termini come di gratificazione dei genitori lo faccio io quindi sono dei fratelli e sorelle che sono molto portati a stare magari fuori dalla casa però ad avere grandi successi a riportare dei risultati anche significativi e poi ci sono gli altri che sono più isolati magari che se ne stanno un po' sullo sfondo e quindi che tendono a non disturbare a non essere d'intralcio perché si rendono conto che lo stress in famiglia è già sufficiente quindi non sono richiedenti sono molto tranquilli molto adattati molto molto di basso profilo oppure l'ultima tipologia diciamo sono quelli più esplosivi no? quelli che invece cercano di farsi vedere in tutti i modi no? allora la ribellione portata all'estremo agli estremi no? per cui sono veramente super esagerati in tutto quanto a volte distinguendo i contesti no? per cui magari a casa si trattengono fuori casa poi fuori ne fanno di tutto e su questo come si fa a capire quali sono le relave che hanno i genitori per capire quando una situazione diventa patologica no? che cosa sento genitori che dicono che cosa mi devo aspettare da questo bambino che mi sembra perfetto oggi sta al suo posto non si lamenta mai ma mi devo aspettare che poi da un certo punto da un momento all'altro mi sbotti fuori perché si è tenuto troppo dentro questa condizione oppure quali sono i campanelli per cui ci rendiamo conto che allora non basta più la figura genitoriale ma davvero c'è bisogno di alzare la mano chiedere aiuto allora beh sicuramente allora alcuni segnali hanno a che fare con un eccesso di isolamento cioè il fatto che questi fratelli e sorelle veramente siano così tanto sullo sfondo da non avere occasioni di partecipazione sociale di stare con gli altri perché i bambini hanno bisogno di stare con gli altri quindi questo è un tema quindi a volte questa difficoltà è legata a dei ritmi familiari che non facilitano ma a volte sono si parla di famiglie con alto livello di stress di complessità di impegni di ricoveri questo è un elemento l'altro elemento però a volte che sono loro stessi a non non volersi ingaggiare allora questo è più preoccupante no? cioè il fatto che non abbiano interesse a stare con gli altri e poi diventa anche una situazione di comfort no? ci sta un po' bene tutti nella bolla tutti chiusi in casa questo è un segnale che secondo me va colto come un segnale su cui interrogarsi sicuramente il fatto che siano sempre molto adattati anche da un punto di vista emotivo non si arrabbiano mai hanno una situazione molto anche qua di mi ricordo una mamma che una volta le ho chiesto ma allora questo sibling come va? e lei mi ha detto ma bene è come non averlo e io mi sono preoccupato perché ho pensato come non averlo insomma è forse un po' troppo se no diventa come un soprammobile questo povero figlio allora lì il fatto che ci sia una sorta di mancanza di iniziativa no? o di protesta no? che è anche fisiologica da un certo punto di vista che anche questa è una cosa su cui interrogarsi oppure il fatto che a volte manifestino visto che sono piccoli attraverso il corpo no? alcuni disagi quindi il mal di testa ricorrenti il mal di pancia una serie di somatizzazioni perché il corpo è il primo canale con cui si esprime il disagio quando siamo piccoli è il canale più immediato ma questo me lo dimentico sempre vedi che dovrei frequentare più spesso gli psicologi per questo mi dimentico sempre che non deriva tutto solo dagli organi sotto ma spesso parte dalla testa no? questo vale anche per noi per noi adulti no? cioè quindi abbiamo quando abbiamo le nostre eruzioni cutanee piuttosto l'herpes eccetera abbiamo se insegneremo dei momenti di particolare difficoltà di stress no? quindi e poi magari appunto delle situazioni anche in contesti non familiari come la scuola dove magari ci sono situazioni di di difficoltà no? anche di rendimento scolastico su cui vale la pena vale la pena profondire sì perché il segnale quando qualcosa non va a scuola è sempre un tema che ci dice che c'è qualcosa che non sta funzionando insomma quindi anche questo è sicuramente un altro campanello d'allarme senti prima di arrivare o poi a un po' di strategie sul cosa fare e cosa non fare volevo toccare un altro punto che avevamo anticipato all'inizio abbiamo parlato di fratelli maggiori fratelli minori gemelli figli adottati e figli unici poi che fanno questi figli unici che non c'hanno nessuno con cui confrontarsi figli unici di quelli con disabilità figli unici quindi le persone con disabilità cosa succede su di loro rispetto a non avere una figura di confronto familiare ma diciamo non so se è oggetto appunto dei tuoi studi anche questo cioè il figlio unico in sé rispetto alla invece alla condizione dell'essere fratello quindi al chino il fratello non ce l'ha allora diciamo così che adesso senza ovviamente generalizzare questa cosa però sicuramente il fatto di avere un fratello una sorella ha una sua valenza da un punto di vista del percorso anche evolutivo delle persone questo perché confrontarsi con una dimensione paritaria è diverso che avere sempre dei riferimenti di un'altra generazione e gli aspetti come dire di alleanza piuttosto che di condivisione su un piano molto più appunto diretto insomma uguale hanno un certo tipo di valore perché diciamo che le nostre competenze anche sociali spesso e volentieri traggono alcuni elementi dalla fratellanza diciamo così che poi uno può riscontrare anche nelle amicizie quindi non è che i figli unici siano menomati per questo però diciamo che avere un fratello una sorella ti costringe a fare i conti con una condivisione degli spazi dei tempi delle attenzioni con un bilanciamento di competizione e collaborazione quindi tanto più sarebbe utile da dire in questo contesto qua dove rischi davvero di essere solo in questa bolla con queste due figure di riferimento genitoriale tu e basta quindi fare i conti con la società già in famiglia sarebbe utile un messaggio anche alle famiglie perché tante famiglie oggi si pongono questo problema anche della fratellanza sia nei termini che abbiamo accennato all'inizio ma anche in generale proprio quando appunto pensano di costruire la famiglia pensano appunto si cominciano a fare conti con questi tipi di discorsi quando pensano a una nuova gravidanza quindi che ruolo possa avere quindi possiamo dire comunque tanti valori aggiunti io penso di sì io penso di sì poi appunto ovvio le intenzioni vanno anche un po' sondate quello che dicevamo all'inizio se diventa l'obiettivo è quello di avere un riferimento futuro quindi è un po' una sorta di mandato un po' impegnativo da sopportare per un fratello ma se l'idea invece è quella di avere una famiglia dove appunto esista anche questa possibilità di scambio tra fratelli in una dimensione più paritaria intergenerazionale secondo me è una buona scelta una buona strategia senti ti riparto qualche testimonianza dei nostri genitori no c'è una frase di una madre che mi è piaciuta molto perché secondo me riassume un po' questo modo di sentire che appunto secondo me tutto è lecito in questo ambiente qua nel senso non siamo qua a giudicare quello che è giusto o sbagliato no per cui lei dice volevo farlo un regalo parlando della sorella del bambino con disabilità e invece l'ho inguaiata per sempre e lei dice che cosa invece posso fare adesso per farmi perdonare no in cui si sente di aver tradito un po' questa promessa che aveva fatto a questa figlia di creare una famiglia con un contesto più allargato dare un compagno di giochi quindi perdonare una parola forte però come si fa a ricostruire questa alleanza fra madre e figlia in cui appunto sono state forse deluse queste aspettative eh questa è una bella domanda no sicuramente sicuramente riscoprendo almeno nella mia esperienza la cosa che funziona è riscoprire la normalità no la parte di normalità che in ogni caso sopravvive no al rapporto fraterno cioè il fatto che ci saranno delle difficoltà che la disabilità in qualche modo inciderà no su questa su questa possibilità ma che ci sono modi diversi no di essere fratelli e sorelle è che questo che la disabilità non ha il potere di azzerare questa opportunità non ha questo potere bisogna in qualche modo assumerselo a questa cosa e andare proprio a cercare anche quelle piccole cose che però danno un segnale che esiste un modo di stare insieme anche tra fratelli a prescindere dalla disabilità anche perché loro veramente questa cosa ce l'hanno presente a volte più è proprio più un tema dei genitori proprio per questo focalizzarsi e io lo comprendo profondamente focalizzarsi però su quello che non c'è quello che viene a mancare in realtà c'è molto altro i fratelli lo vedono lo sanno e vanno un po' anche accompagnati a riconoscerlo a tenerselo stretto pensando che che comunque rimane un legame fraterno e in quanto tale rimarrà per tutta la vita quindi può aver senso anche dedicare degli spazi come si dedicano gli spazi alla terapia ad accompagnare la persona con disabilità a fare delle visite può aver senso ricreare questi spazi invece già dedicati predestinati invece alla relazione con il sibling quello sicuramente o qualcosa di forzato no no assolutamente anzi è consigliabile anche da un certo punto di vista come dire ritagliare degli spazi di esclusività siccome appunto la disabilità ha questa capacità di monopolizzare anche le risorse le energie della famiglia l'idea che i sibling a volte abbiano si sentano come dire un po' al centro dell'attenzione è una buona è una buona scelta quindi a volte questo non è possibile farlo da entrambi i genitori per una questione organizzativa però che qualcuno ogni tanto abbia del tempo da solo con il sibling in modo da mandare proprio un messaggio di importanza di esclusività è sicuramente una buona strategia per per trovare un senso come di equità che è una cosa molto un equilibrio molto difficile per queste per queste situazioni ma per mandare proprio un messaggio anche fisiologicamente di di importanza di di valore ai fratelli e sorelle che è un bisogno che abbiamo tutti quindi nessuno escluso quindi e a volte per loro è un po' più difficile andarsela a conquistare questo spazio quindi questa attenzione ci sta bene senti un'altra domanda che ci fa una mamma è pensando appunto nel ruolo dei genitori è come faccio io a stimolare però questo rapporto sano di fra fratelli che cosa posso fare io per far sì quando vedi appunto gli atteggiamenti di indifferenza o o di rabbia che cosa può fare il genitore invece per riportare questa relazione fra fratelli a funzionare ti faccio domande come se avessi però per noi davvero un mondo molto nuovo su cui ci sentiamo sguarniti sono domande più che più che normali e legittime no e sarebbe interessante sapere da questa mamma qual è la sua idea di relazione tra fratelli no cioè perché io se penso a mia sorella era un disastro no e nessuno dei due aveva dei problemi quindi ci siamo poi riscoperti da grandi se vogliamo no però il livello di conflittualità la gelosia l'invidia è tutta roba molto normale no in realtà c'è una sorta anche qua no di idea no della relazione fraterna come qualcosa che debba funzionare per forza ma soprattutto su dei parametri adulti in cui il sibling abbia questa capacità di capire di tollerare di essere disponibile no mentre lui fa il fratello cioè il fratello si incavola eccetera ha dei momenti anche lì fisiologici no quando si dice forse più sano è quello quando si tratta a darmi pari fra fratelli e fratelli ci si arrabbia si fa pace di solito sì e addirittura le teorie parlano di questa sorta di mini divorzio tra fratelli in adolescenza dove prima si faceva tutti insieme poi quando in adolescenza io ho la mia compagnia tu c'è la tua ognuno si fa i fatti suoi le porte si tengono chiuse e solo che appunto se lo fa un sibling viene visto quasi come un elemento di distanziamento di disinteresse di rifiuto a volte può esserci anche che è più un rifiuto della disabilità in quella fase che del fratello perché quello è un tema in adolescenza molto delicato cioè quindi il rendersi conto che questo elemento della vita del proprio fratello avrà delle conseguenze importanti per il futuro e quindi quasi come dire rigettare questa cosa come non volersela sentire addosso ma anche questo va visto in un'ottica evolutiva cioè come un passaggio che ha a che fare con un mondo che è quello dell'adolescenza in cui ci sono i bianchi e i neri non esistono le vie di mezzo quindi o una cosa la sposi o la rifiuti quindi se tuo papà tiene all'Inter tiene al Milan se vuota a destra tu vuoti a Sine lo fai per contrapposizione fisica e quindi lì che si fa si aspetta che passi questa fase e ma come dicono gli psicologi dell'adolescenza che l'adolescenza accade e poi in qualche modo ce la dobbiamo ce la dobbiamo prendere insomma e aspettare che passi insomma che quello è un elemento di normalità va bene senti avevamo detto che ne avremmo parlato ma poi abbiamo sorvolato su questo quindi un ultimo cenno sui gemelli quando appunto la persona con disabilità e questo nel nostro caso è una parola di cerebrale infantile può capitare abbastanza spesso ci sono problemi legati alla nascita e quindi esistono le condizioni in cui i due gemelli vivono questa diversa condizione dal punto di vista appunto della salute o appunto proprio della disabilità in sé quindi su questo c'è qualche esperienza che ti senti condividere cose viste che hanno funzionato forse un'attenzione da questo punto di vista è che in queste situazioni in alcune situazioni gemellari una cosa che può presentarsi più frequentemente che in altre situazioni è quello che viene chiamato il senso di colpa del sopravvissuto perché come se il sibling potesse vivere la propria situazione come una sorta di privilegio rispetto al fratello e personalmente mi è capitato anche di conoscere dei fratelli una sorella in particolare che a un certo punto del suo percorso mi aveva confidato una sua fantasia cioè quella di aver generato la disabilità in una situazione intrauterina alla propria sorella scalciando cioè una fantasia del tutto irrealistica che però l'aveva accompagnata per tanto tempo quindi prestare attenzione a questi aspetti poter parlare di queste cose quando è il momento giusto per poterlo fare non quando sono troppo piccoli ma quando hanno magari mostrano dei segnali o dei dubbi rispetto a questa diverso destino che in qualche modo li contraddistingue è qualche cosa a cui prestare particolare attenzione perché questo tema è un tema delicato e stesso punto di vista stesso approccio come domanda a te rispetto all'adozione ma in quel caso secondo me non c'è una una casistica al riguardo non c'è e non c'è neanche una grande diversità rispetto a quello che poi può essere la relazione tra fratelli non è il momento in cui c'è un po' come essere il fratello maggiore o minore o viverla dall'inizio ecco le caratteristiche alcuni aspetti forse a cui prestare attenzione sono uno che ancora un po' troppo si si identifica il genere femminile come quello più predisposto all'accudimento quindi anche questa cosa sarebbe diciamolo facciamo un bel manifesto qui sopra che scorre è ancora un po' troppo diffusa questa cosa cioè che quindi le sibling bambine sono e poi diventeranno donne grande potranno avere anche loro una famiglia una realizzazione professionale che quindi magari gli viene limitata sono più spesso identificate come una potenziale figura di caregiver e l'altra questione è prestare attenzione al fatto che quando è presente una disabilità abbastanza significativa c'è una sorta di di sorpasso generazionale cioè i sibling minori prima o poi diventano sibling maggiori cioè diventano fratelli maggiori nel senso che c'è un tempo in cui superano in termini di competenza di capacità il fratello con disabilità anche se il fratello è maggiore di età e questo è un passaggio delicato che va in qualche modo monitorato perché abbiamo osservato situazioni in cui questi fratelli come se frenassero il loro sviluppo magari rallentano alcune alcune conquiste cominciano ad andare male a scuola a non volere come dire essere promossi o a superare perché è come se gli sembrasse appunto di superare di scavalcare invece un ordine esattamente un ordine naturale che infatti è una cosa molto tipica dei sibling che non succede altrove ed è interessante a volte sentire alcuni sibling che rivendicano il fatto di essere secondogeniti cioè come dire io avrei voluto avere un fratello una sorella maggiore che mi spiegasse che facesse esperienze prima di me che mi tutelasse e invece devo fare io in qualche modo anche se sono il minore che è una cosa apparentemente banale ma è un sovvertimento dell'ordine naturale da un punto di vista generazionale che comunque va colto nella sua dimensione evolutiva insomma quindi è un tema anche questo particolare e delicato e che è tipico dei fratelli dei siblings quindi a cui prestare attenzione senti abbiamo parlato tantissimo ma credo che abbiamo toccato forse un 1% di tutte le tematiche che avremmo potuto toccare ad esempio non abbiamo parlato anche delle diverse condizioni di disabilità perché poi possono avere dei tipi di impairment più o meno gravi e quindi condizionare a loro volta questo tema però io rimanderei a un approfondimento che magari si può fare anche attraverso la lettura dei tuoi libri vuoi ricordare tu Andrea i tuoi libri sono due no? sono due uno ha sentito la proprio siblings ed è delicato ai genitori l'ho scritto proprio per quello perché ho pensato a loro come primi interlocutori rispetto a questo tema in modo tale da poter aumentare il livello di conoscenza su questo che è il mondo su questo mondo dei siblings ed è proprio un libro che racconta un po' la storia la tipica traiettoria evolutiva dei siblings tipica mica tanto perché ci sono tante sfaccettature però quelli che sono gli elementi che possono essere ricorrenti nella storia dei fratelli e delle sorelle e invece il secondo libro è dedicato a un più tecnico è più dedicato agli operatori ed è su una metodologia di supporto ai siblings adulti quindi attraverso dei gruppi di sostegno che insomma abbiamo messo a punto con Paideia più recentemente la scelta è stata quella di fare un testo dedicato agli adulti perché i siblings adulti sono quelli meno visti in qualche modo perché adesso abbiamo cominciato da qualche anno a supportare i più piccoli ma quelli che sono già grandi hanno tutto un vissuto in cui non sono stati presi in considerazione quindi ci sembrava una lacuna da colmare e quindi l'idea di fare un testo che potesse essere utile agli operatori dei servizi per costruire questi gruppi di supporto ci sembrava una buona idea quindi il prossimo sarà sui siblings diretto ai siblings direttamente a loro ci sono ci sono tanti libri scritti dai siblings che sono anche molto utili ci vuoi lasciare qualche consiglio di lettura volentieri possiamo anche condividerlo dopo come preferisci sì sì ma beh a parte ci sono alcuni testi che poi sono diventati anche dei film mio fratello rincore di Mauri insomma piuttosto che altri però un libro a cui io sono particolarmente affezionato non so se si trova ancora in giro si chiama vola più in alto ed è di un tale Diego Pelizza che è un sibling di Padova che è un mio amico è un giovane giovanissimo che ha scritto questo testo che non è strettamente autobiografico ma racconta di una vicenda della storia di un sibling che è molto vicino alla sua e secondo me è un po' meno edulcorato rispetto ad altre ad altre versioni insomma diciamo che racconta la vicenda in maniera anche forse un pochino più realistica che poi leggere libri o guardare film alla fine non è altro che appunto capire anche di non essere soli di non essere gli unici in quella condizione e rapportarsi un po' prendere le misure con gli altri capire le strategie che hanno preso gli altri quindi mi sembra sempre assolutamente terapeutico anche per loro esatto esatto senti Andrea ti ringrazio tantissimo spero che sia l'inizio di nuove attività da portare avanti insieme perché mi sembra che ce ne sia un gran bisogno un bisogno che appunto io non avevo riconosciuto all'inizio non vivendolo direttamente però mi sembra un tema che tocca tante famiglie che poi insomma fa parte del futuro della nostra società quindi assolutamente grazie ancora io ci sono se avete bisogno sono qua grazie ancora di tutto a presto ciao grazie grazie